A Roseto degli Abruzzi, lo sblocco dell'Iter per la realizzazione di alberghi, residence, appartamenti nell'otto Mare Blu, l'ultimo a nord in Viale Makarska, sta suscitando diverse polemiche, in particolare da parte dell'Associazione Guide del Borsacchio. L'associazione ambientalista critica il percorso iniziato diversi anni fa e che sta portando a loro dire ad un radicale cambiamento della zona ridosso della riserva, trasformando un'ex area verde con campi ed ex vigneti sul mare in un agglomerato disordinato di strutture vicinissime, con occlusione della vista al mare totale. Oggi c'è l'ultimo atto di un percorso durato quasi 30 anni, che ha portato una zona di pregio a diventare una zona disarticolata, urbanizzata male. Una scelta che oggi premerà qualcuno, ma un domani, fra 20, 30, 40 anni, quando ci saranno i nostri figli, i nostri nipoti, quella sarà una zona non di pregio e non attrattiva. Il progetto esecutivo di questo piano era stato approvato già nel dicembre 2018 in Consiglio Comunale dalla precedente amministrazione, ma tutto è rimasto bloccato fino a pochi mesi fa per delle controversie tra i soci por risolte. Ora tocca agli uffici urbanistici del Comune dare l'ultimo via libera. La riserva Borsacchio è stata l'ultima speranza per l'area di Via Makarska, perché è giusto ricordarlo che dal 2005-2012 via Makarska era dentro la riserva Borsacchio. Ma attenzione, non era una zona di tutela o di tutela integrale, era una zona di cuscinetto, dove sì, si prevedevano delle urbanizzazioni leggere, turistiche, ma belle, attrattive, non alte, che lasciavano spazi di visuale al mare, spazi ai campi, cioè zone di pregio, di turismo, di qualità, per attirare persone non solo durante il periodo di massa estivo, ma anche destagionalizzarlo con un ambiente e un territorio preservato. Purtroppo in una notte del 2012, dove io, guidato dall'allora Franco Sbrolla, che oggi non c'è più, centinaia di cittadini di Roseto erano a protestare in quella sala del Consiglio che sotto la spinta di interessi legittimi, ma privati, che andavano a vantaggio solo di privati, è stata tagliata la riserva Borsacchio e via Makarska è caduta.